è la gran frequenza di alice sostenuovo che si passa davanti poi balagussa lampitelli la sola ma la corsa in finale l'ampietta di cesca anche qui due maglie azzurre azzurrissime infatti vanno subito in prima e seconda posizione in particolare vediamo Ilaria Carrera davanti una delle migliori velocisti al mondo di categoria con Ilaria con Ilaria siamo alla già all'ultimo giro Carrera tentato con Ilaria Carrera sarà abbastanza tranquilla proiettoria di Fiorenti però l'era ahhh 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 qui a giro che smacola, normalmente a giro Italia all'interno, all'interno Camilla e adesso suona la campana, Carrera, peggiato Sorzonovo è una questione fra l'oltre grande sorpasso grande sorpasso Alice, sorzonovo grande sorpasso e va a vincere e ti vuole un grande applauso Alice, sorzonovo